Che stasera c'è, appunto, mi ha detto se è andato in più la conferenza, è stata, ma appunto, essendo di Roma, non posso presunziare, no, ecco, io no, non posso dimandare nessuno, perché io sono delle Zambia e tantomeno, ecco, tolgo il meccanismo, perché ho fatto giornalismo a Roma, dieci anni, ecco, io vorrei sapere, no, se mi, dicevo a suo collega, se mi rilasciavate qualche cosa, agli giornali, ti poi domando, ecco, Ecco, allora, mi grazie che ho deciso dove costruire questi comunicati, per poter, sì, sì, certo, sono 24 ore, sì, e voi fate parte del movimento del 9 dicembre, non per i forboni, quindi fate parte di, non di, come si chiama, non ve lo fa, li lascia, in modo che io lo mando anche in diretta adesso, allora, vede, stiamo registrando, non voglio chiedere il permesso, l'autorizzazione, quindi, ok, E, guarda hey, vogliamo chiedere, andiamo assonno, Andiamo, andiamo, probabilmente , ma adesso non andiamo anche in diretta perché abbiamo gli stream, ecco, allora, a questo punto, vorremmo sapere, sappia, ho già bloccato, la gestione che sto app'entretto, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.